Quest'oggi cara mia batteremo un Guinness World Record di Fortnite, sei pronta? Eeeh, qual è però? Cioè, dimmi prima cos'è! Prima di tutto credo che sia sempre il nostro il record, ovvero di kill in un game che avevamo fatto nei server privati Non so se qualcuno a livello mondiale ha mai fatto la stessa cosa battendoci Però, perché lo stiamo facendo? Perché con la metà parco giochi teoricamente puoi fare un'infinità di kill Dato che puoi tornare costantemente in vita, ok? E la mia sfida viene dal fatto che i canali internazionali sono fisso lì che sono facendo Guinness World Record quello, Guinness World Record quell'altro E ci sta, e ci sta E fanno la kill a 4000 km, e fanno la costruzione più gigante di sempre E quindi ho deciso, anche i 2 players su una console devono avere un record mondiale, farsi notare da tutto il mondo Non penso ci noteranno, però va bene Stef, l'importante è crederci, e questa è la cosa più importante L'importante è crederci, siamo tutti d'accordo E quindi dicevo, farsi notare, farsi capire Oh, grazie Grazie È nato che mi sta già dando un sacco di colpi Eh, anch'io, io ne sto cercando, ma purtroppo a livello di lutto non mi è andata benissimo Però dai, mi sto impegnando Ok, l'importante è che avrò un tipo di arma di tutto, secondo me, quella è la cosa più importante E quindi dicevo, è proprio per questo motivo cerchiamo anche noi di farci un Guinness World Record Almeno uno lo possiamo detenere noi Certo Secondo me perché non l'hanno fatto? Perché nessuno ci ha pensato che si può fare sfruttando la malità parco giochi E allo stesso tempo perché è noiosissimo Esatto Perché adesso voi immaginate che noi dovremmo stare fermi a killarci costantemente Cioè io che ammazzo gli altri tre che tornano costantemente di vita e tornano esattamente nel mio punto E dovrò continuare, boom, 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 una tortura Beh, poi conta che il nostro vecchio record quant'era? Un'ottantina di kill? Il nostro vecchio record era un'ottantina di kill Quindi ce ne dovremmo fare, quindi più di cento Allora io ho già deciso che andremo oltre il cento Proprio per dimostrare l'assurdità della malità parco giochi Perché finché sei capito, entro il cento Magari sembra tipo che non so, cosa ne so, che hai hackerato o cos'è del genere Se vai oltre il centro, è una figata Allora, munizioni, 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 munizioni Per ora queste granate le prendo Ho un'arma con fucile a pompa Un'arma con colpi piccoli Un'arma con colpi medi Questo mi sa che lo prendo tutta la vita al posto di queste Io ti sto prendendo un po' di tutto, eh Il cecchino e tutte quelle robe ovviamente sono completamente inutili Il cecchino si lasciamo stare Shieldi non ne dobbiamo avere, vero? No, beh, mi fate perdere soltanto più tempo Ok, ok, l'importante è trovarmi un sacco di colpi Quello è molto importante Armi te ne servono, perché io ti sto prendendo anche armi Ho già tutto Allora, ho uno di assalto Uno di piccoli e uno di pompa Quindi non credo mi serva nulla A meno che non trovi tipo il minigun No, infatti io ti avevo preso un fucile d'assalto Un fucile a pompa e la mitra gli età con colpi piccoli No, solo munizioni, cara Ok Allora, apro anche questa chest Perfetto L'headshot di questo fa più male di quello delle M16 Vi se ricordo bene Ricordati Steph, ricordati Steph, ricordati Steph Mi pare di sì Vai, andiamo così Ok, chest qui sotto E direi che possiamo partire Ok, sei pronto 52 minuti Per distruggervi tutto il tempo Mi sentirò un po' in colpa È una di quelle cose un po' brutte No, non è vero Non ti sentirai in colpa E poi Dove sei Steph? Fammi un segno su dove sei che ti porto i colpi Ok Allora, avviso anche loro Metto un segno Venite tutti qui Direi che ci siamo E datemi tutte le munizioni Così spero di avere la sufficienza Ok Allora Dove sei? Metto il segno Teoricamente Allora, c'è L'ho messo E poi ti sono di fronte, cara Mamma mia No, stavo guardando la minimappa Ok, teoricamente Allora, tieni Tieni Ho una domanda per te Tieni 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 Eh, le armi purtroppo non le posso scaricare Quindi amo Grazie mille Allora A livello di armi Ah, mi butto tutto quello che ho qui dentro Sinceramente Questo è strautile Quindi lo prendo volentieri Ah, ti faccio vedere anche quello che ho Guarda Quanta bella roba Tieni 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 E basta Così mi sento ancora più in colpa Uccidermi È un brutto lavoro Però teoricamente Questo non è il miglior modo Beh, dovevi iniziare Eh Certo che dovevo iniziare L'altro si è buttato per far condizio Dicevo Non è il miglior modo alla fine Buttarsi sempre lì Eh Non lo so È un po' noioso Io direi anche poi di cambiare Steph Perché se stiamo fermi A fare solo Allora Gioco Il di troppo Era noia mortale Ad acchiappa all'uccellino Vai Prendici il volo Esatto Vai Vai Sto volando anche Tranquilla Perché sono Steph Sono ferma Ce la fai Ma se stai andando a zigzag Più di chiunque Ma perché devo scendere piano piano Dai Sono qua davanti a te Su Oh Bravo Gli altri li ho distrutti Te facevi così E mi dicevi pure Sono ferma Piano Sono sarei capito Atterrata E tu non mi avresti preso Tutto verso giù Aprire le paracadute E poi star ferma Teoricamente Poi se mi vuoi far specare colpi Certo Certo Allora Ok Aspettiamo che rallentino Perfetto Allora Dov'è che sei? Sei qua Vai Questo è un nuovo sport Olimpico Ok Perfetto Almeno tu ti stai divertendo Beh sì almeno io mi diverto Noi non troppo 8 kill E siamo Raga quanti se ne possono fare secondo me a questo ritmo? Poi non è che ho scelto l'arma migliore Poi ok che non staremo 50 minuti a fare la stessa cosa all'infinito Esatto Però penso che forse Guarda forse un 200 le puoi fare 200 anche secondo me Cioè È probabile Senza esagerare Secondo me si possono fare Allora Vieni qua Sto'è fatta notte nel frattempo Ok Perfetto A quanto sei? Eh sono a 10 kill Eh A te non vedo minimamente cara Sono dietro di te Vabbè È sceso così Ma dove? Dietro di te Ah ciao Alleluia Ciao cara Ok 12 kill Eh Ci vorrà un sacco di tempo 100 sono Sottoste Steph 100 sono toste Lo so Anche perché poi ci vogliono quei 3 secondini per tornare Quindi tanto tempo che si perde Eh non è semplice Non è semplice Beh Fra un pochettino noi faremo un taglio E i consolini vedranno un numero praticamente finito O direttamente finito Noi nemmeno invece dovremmo restare qua Ovviamente Quindi Diciamo Stai dietro di te Che la vera fatica sarà per noi Oh ciao Perché io rinasco sempre da quella parte Quindi vado direttamente dritta Ci sta Ci sta Siamo a 15 Ne mancano soltanto 85 per arrivare a 100 Quindi più o meno ce ne mancano un centinaio Per fare il nostro Guinness record assoluto Io scommetto guarda che dopo questa Nat e Duke non faranno mai più un video con noi Anche secondo me Perché ogni volta si facciamo cose divertenti Ma questa Steph Io te lo dico che lo sto provando E la annoia mortale Per te magari è divertente Per noi no Ma che cosa Gente che mi tiene intorno E la prossima volta io mi immagino Tipo Ah sì ci siete per fare un video Eh no guardo l'impegno All'ultimo momento Non potevo proprio rimandarlo Mi dispiace Steph Ciao Perché te lo meriteresti Dopo che Oh un po' di headshot Ti dicevo non è divertente Perché girano intorno Con il deltaplano tutto il tempo E la tortura sinceramente Ma poi dove è finita Nat Non lo so È scomparso Ah eccolo Ah ecco ti stava portando roba Sì Grazie Grazie Ho trovato un lama Ok ok Ah ho trovato un lama Sì esatto Mi ha portato tutti i colpi Giustamente ti ha portato tutto Ok perfetto Ok va bene Va bene va bene Dove è ferettina Di sedi dietro di me Eh ti ho perso Dove sei? Come hai fatto a perdermi Aspetta qua 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 Io ne ho in tre Continuo a sparare raga Attento perché i colpi sembrano infiniti Ed è divertente Prevalentemente è divertente Siamo a 20 kill Ok Sarà una lunga giornata Facciamo un taglio E ci rivediamo fra un po' raga Perché non vi vogliamo torturare insieme a noi 75 kill Mancano 36 minuti raga Quindi potete immaginare Quante cavolo di kill si possono fare E in ogni caso A 80 battiamo il nostro vecchio record Fatto in un server privato Quando ce li avevano dati le Epic Games Quindi manca davvero pochissimo A quel punto non so se sarà già un Guinness World Record Perché non gli ho idea appunto Se l'internazionale qualcuno si aveva inventato la stessa cosa nostra Ok Non lo so Non l'idea Però nel caso l'abbiamo già fatto Ma a priori andiamo oltre il 100 Vabbè andiamo comunque Perché dobbiamo fare le cose bene qua A battere il nostro record Poi se qualcun altro l'ha fatto È un altro discorso Noi stiamo ribattendo il nostro Ma se andiamo over 100 Battiamo chiunque nel mondo Dai sì Anche secondo me E a quel punto anche in Italia avremo un Guinness World Record di Fortnite Poi vedremo se ne facciamo in tempo a fare anche di altri Perché non lo so Bisognerebbe inventarsi qualcosa d'altro Basta pensare un pochettino Allora sto andando molto più in alto Avete capito che tattica abbiamo usato? Praticamente abbiamo messo delle trappole in altissimo Per diminuire Otto Per diminuire il tempo di discesa del deltaplano Certo In questo modo è molto più semplice fare il record Allora ne piazzo Sto mettendo le altre Guarda Ok la vedo Dovrebbe andare molto meglio no? Credo di sì Adesso vediamo come volate controllo Sì è anche troppo Anche troppo? Mi tocca fare un po' di salita sì Allora aspetta che Perché si Allora praticamente Esatto se la metti lì è meglio Ok Perché ovviamente Cerchi di fare la discesa il più veloce possibile Vai basso Ok voglio vedere un attimino come fai il volo tu Vediamo Così mi calibro meglio Allora vi vedo scendere Guardate i calcoli che si dovevano fare in questi casi Ok Ok sto guardando Nat Forse ancora leggermente più in basso Leggermente più in basso Cavolo aspetta Sì Guarda qua 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 Secondo me devi mettere a questa altezza E va benissimo Così siamo perfetti Sì anche secondo me Oh yes Ok che ogni caduta è diverso Ma secondo me qui presta poco va bene Guardate cosa ci si inventa Per fare il record di kill Allora con un ritmo del genere Sfruttando il fatto che il fiume raga è molto basso Quindi si riesce a volare in fretissima Infatti guardate le discese Secondo me si può fare forse anche over 200 Vero? Non lo so Guarda che stiamo andando molto più veloce Considera che adesso mancano 34 minuti Parte con 55 Siete morti in sync Diciamo parti con 55 minuti Quindi ne sono passati soltanto 20 E siamo a 90 kill Ok Quindi neanche a metà del tempo A 90 kill E stavamo andando molto più lenti di così Quindi si può fare over 200 Ci sta Si può fare over 200 Allora io direi di festeggiare insieme le 100 Poi facciamo un altro taglio Ci becchiamo il Guinness World Record ufficiale Che vediamo a conto arrivare 115 e 120 E poi concludiamo appunto il Guinness World Record super mega fantastico Ti ha rubato il momento trappola Ecco grazie Vabbè è normale Ho un pochettino di tempo per cui si deve riattivare Quindi Dai siamo vicini a 100 Quanto sei di preciso? 93 Ne mancano solo 87 Viene mentre sono qua Che saltello Non ho fatto nulla Non ti devi neanche più sprecare Neanche devi metterti a sparare Stai proprio Guinness World Record Con zero sforzi Si si da pigro proprio Da pigro totale Si Ok dai raga così E una catena umana di suicidi perfetta su Fortnite Per fare il Guinness World Record L'ho mancato Vabbè mi butto Addio Eh ma così non prendo la kill Eh lo so Quello fa No l'ha mancato anche lui Ok tutta posta Tutta posta Devi essere molto preciso Ti distrai un pochettino Perché stai chiacchierando E non lo pigli più Eh lo so Lo so È un lavoro difficile eh Vabbè Sì Vabbè Farlo una razza che non è esasperante Di sicuro è più difficile di quello che stai a fa te Quindi Almeno ci vuole un po' di impegno Non a caso ho scelto questo ruolo Mi becco il Guinness World Record E non faccio niente nulla Esatto 98 Ne mancano soltanto due Oh yeah Oh yeah Oh yeah Dai 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 Dove siete? Ok una qua Mi è caduta in testa Ok Adesso Nat E' il centesimo Eccolo qui Vai Yes Guarda il cento tondo Bellissimo Volevo vedere anche se c'era comunque un bug Nel senso Il centuno Lo calcolo Si bugga No perché Perché dovrebbe Perché teoricamente tu non puoi andare oltre il cento Comunque no Beh in effetti Anche se sei fortissimo Non puoi andare oltre il cento È un limite massimo No è In realtà neanche cento puoi fare Perché metti che sei in solo Ci sono altri 99 Poi fai 99 99 dovresti fare Esatto No allora evidentemente hanno messo un conteggio infinito e ci sta 103 Facciamo un ultimo taglio raga Poi vediamo quanto facciamo esatto di Guinness World Record E ci fermiamo Abbiamo scelto come numero del Guinness World Record 121 La 100 nat Quindi ne mancano 64 La scelto nat E di conseguenza raga Ce l'abbiamo fatta Siamo dati oltre il cento È un Guinness World Record Al cento per cento Non sappiamo se mentre uscirà il video Lo farà qualcun altro Speriamo assolutamente di no Oh morite tutti e tre in contemporanea Che bellini Siamo a 120 Anche perché mi sono avvicinata E si è attivato lo stesso Non so se io non ci fossi sopra Quindi ho dovuto aspettare Quindi video finito Ci fermiamo così Speriamo che l'idea vi sia piaciuta Proveremo a fare qualche Guinness World Record Ma avremo pochissimi giorni Dato che manca pochissimo Al fatto che tolgono la mappa Perché sì raga Stanno per togliere la modalità Quindi Fra molto poco tempo Non potremo più far nulla Però Vediamo un pochettino Ovviamente stiamo pre-registrando Per potervi portare contenuti Con la metà parco giochi Anche per il futuro Certo E niente Ci fermiamo così 121 Qua sotto compariranno altri video Siamo a 121 Ma andiamo anche a 122 Qua sotto compariranno altri video Iscriviti al canale Cliccate la campanella Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao